Siamo notati Gesù e Maria. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, 6 agosto, la Chiesa celebra la festa della trasfigurazione, questa festa che cade a metà dell'estate e ci invita a vogliere lo sguardo a questo episodio molto importante del Vangelo che ricorderete ogni anno, abbiamo un altro momento in cui lo meditiamo, che è sempre la seconda domenica di Quaresima, detta anche appunto della trasfigurazione. E' un episodio importante contenente moltissimi insegnamenti, su cui adesso brevemente meditiamo un po' insieme. Anzitutto l'episodio, l'episodio è un episodio di manifestazione straordinaria che Gesù ha fatto della sua divinità. Quello che Gesù ha fatto in questo episodio è una cosa molto semplice, ha fatto vedere in maniera straordinaria a questi suoi tre apostoli che erano le colonne del gruppo apostolico, appunto Pietro, Giacomo e Giovanni, cosa? La sua natura divina sfolgolare nella sua natura umana. Noi dobbiamo sempre ricordare che Gesù è venuto sulla terra e ha voluto nascondere sotto il velo della sua umanità la sua identità profonda. Quindi chi vedeva Gesù vedeva apparentemente un uomo come tutti gli altri, ma non perché lui non potesse far vedere chi era veramente, ma perché lui non ha voluto farlo vedere, perché ha voluto venire nell'umiltà per mettersi sotto i piedi l'umana sperbia. E ha voluto, vi pensate, insomma, no? Pensate alla differenza che c'è tra Gesù e noi, no? Quando noi abbiamo fatto qualcosa di buono, abbiamo qualche titolo, mettiamo subito i manifesti, no? Tutti devono sapere quanto sono bravo, quanto sono importante, quanto sono grande, no? Gesù ha fatto esattamente il contrario. È una manifestazione straordinaria della divinità fatta a questi tre. Gli altri nove non c'erano. Ecco, allora, questo episodio ci fa un attimo riflettere su un punto fondamentale, perché poi Gesù mostra la sua natura divina. Appaiono Mosè e Delia come testimoni dell'Antico Testamento, proprio per dire guardate che ci avete dinanzi colui che è appunto l'eletto, l'inviato, che è il compimento di tutte le promesse che Dio ha fatto nell'Antico Testamento. E si manifesta la voce del Padre. È una delle tre volte che parla. Che cosa dice il Padre? Questi è il figlio mio reletto, attenzione, ascoltatelo. Questo è uno degli insegnamenti fondamentali di questo brano, capite? Allora, quanti di noi, facciamo questo esempio, a quanti non gli piacerebbe vedere adesso Gesù che appare qui in mezzo e si fa vedere in tutta la sua bellezza e in tutta la sua gloria? Potrebbe farlo Gesù? Certo che potrebbe farlo. Può essere pure che lo fa, eh? Non sa mai. Ecco. Però queste cose Gesù le fa se vuole, quando vuole, come vuole e quando vuole. Per dei motivi molto ben precisi. E con le persone che vuole, eh? Con le persone che sceglie. Lo sapete che la Madonna adesso appare in tanti pasti, no? Quando incontrano i cosiddetti veggenti, gli chiedono sempre ma come mai la Madonna ti ha apparsa a te e non è apparsa a qualcun altro? Voi rispondi, io non lo so. E chi lo sa perché la Madonna è apparsa a te e non è apparsa a Caglio. Non si sanno queste cose. Quindi queste manifestazioni straordinarie sono completamente soggette alla volontà di Dio, alla sua sapienza e alle persone che lui sceglie per le sue misteriosi volezioni. Ecco. Non è su queste cose però che si fondano la nostra fede. Anche se lui le fa perché? Perché poi San Pietro ha scritto nella prima lettura e dice guardate che non siamo mica andati a pressare favole noi che vi predichiamo il nostro Signore. Noi abbiamo visto con i nostri occhi, lo assicurando. Abbiamo visto chi era. C'è stavamo noi, c'è stava qualcun altro. Quindi fateci un esame, come dire, psichiatrico. Vedete se siamo matti o se siamo sane di mente. Ma queste persone sane di mente hanno visto questa cosa e l'annunciano. Però la fede non si fonda su queste cose grosse, straordinarie. Capite? Ma su cosa? Sull'ascolto di Gesù. Ecco perché proprio in quella circostanza il padre si rivolge a quei tre, ma attraverso quei tre si rivolge a tutti noi e dice Credi che Gesù è mio figlio e quindi in forza del fatto che lui è colui che ti ha inviato per la tua salvezza, apri bene le orecchie, ascolta, metti bene in pratica quello che ti dice perché questa è la via sicura che vale per tutti. Non tutti avremo la grazia di vedere Gesù veramente com'è prima di morire, prima di andare in paradiso. Ma tutti quanti, se vogliamo, abbiamo la grazia di ascoltare la sua parola. Basta non soltanto venire a messa, insomma, no? Come c'è un bel Vangelo dentro casa, lo apre, se lo legge con calma, ha ascoltato la parola di Gesù. Questa è la cosa più importante perché se noi non ascoltiamo il Vangelo, non lo mettiamo in pratica, in paradiso non ci andiamo. E quindi la delizia che viene dal fatto di vedere Gesù, di vedere la Madonna, di vedere i Santi, di stare in loro compagnia, oggi cominciamo anche la novena dell'Assunta, che è la patrona della nostra parrocchia, non la gusteremo se non abbiamo conosciuto, ascoltato e messo in pratica la parola di Gesù. E questa è la condizione ordinaria della fede, ecco perché vedete quando San Pietro dice che è bello stare qui, rimaniamo sempre qua, facciamo delle tende. Gesù dice calmi, tabbono, questa è una cosa straordinaria, adesso ricomincia la vita normale. E quindi non sapeva quello che chiedeva perché il paradiso ci sarà dopo. Qui il Signore sia in questi modi straordinari, sia in altri tanti, tanti modi, può darci degli sprazi di luce, può darci anche delle grazie molto, molto grandi, ma sono sempre grazie a transitori e funzionali a confermarci nella fede, a farci crescere nella fede e nella pratica del Vangelo, che è la cosa sempre più importante. Quindi anche la nostra fede è solida, tanto quanto è radicata nell'ascolto della parola di Gesù e nella sua messa in pratica. Perché se facciamo questo, poi abbiamo tutta l'eternità per bearci di Gesù, della Santissima Trinità, della Madonna e dei Santi, ma se questo non lo facciamo, non lo vediamo né mai. Questo è il grande messaggio di questa festa. Bene, oggi iniziamo, accendiamo anche la novena a Maria Santissima Assunta in cielo, questa altra bellissima festa del mese di agosto, che santifica questo mese. Chiediamo a Maria Santissima di prepararci bene a celebrare questa importantissima festa. Non dimentichiamo, è possibile in questi giorni chiedere, specialmente per chi farà tutta quanta la novena, una bella grazia alla Madonna. La Madonna è sempre molto contenta di fargli le grazie. Quando facciamo una novena noi possiamo sempre chiedere una grazia al cielo, con fede, e se quella grazia è per il nostro bene, stiamo sicuri che la Madonna non mancherà di ottenercela per la gloria di Dio e per la sua doverosa e giusta esaltazione. Siamo notati Gesù e Maria.